Winet e il Comune di Subiaco si fanno promotori di una piattaforma e-commerce multi-vendor che riunisce tutti i commercianti aderenti al fine di poter vendere online i propri prodotti ai cittadini di Subiaco. La piattaforma nasce con l'obiettivo di rispondere all'emergenza Covid-19 e supportare i commercianti di Subiaco nel mantenere attive le proprie attività attraverso la vendita online limitando il più possibile le ripercussioni economiche sulla comunità sublacenze. All'interno del sito www.visitsubiaco.it ogni scheda commerciante avrà un catalogo prodotti e permetterà ai cittadini di Subiaco di effettuare ordini online attraverso il pagamento con carta di credito e Paypal. Ogni commerciante verrà dotato di un pannello di controllo attraverso il quale, in totale autonomia, potrà gestire il proprio negozio online, caricare nuovi prodotti e aggiornare le giacenze di magazzino. La logistica e le spedizioni verranno gestite direttamente da Winet. Non solo vendita, la nuova piattaforma permetterà anche di effettuare donazioni per esprimere solidarietà alle fasce più deboli della popolazione in questa drammatica emergenza nazionale. Stiamo già lavorando per voi, la nuova piattaforma sarà online nei prossimi giorni. Iscrivetevi!